L'erosione in conventi a danno della costa agrigentina, le soluzioni da sfruttare ma non ancora sfruttate. L'intervista Claudio Lombardo, coordinatore dell'Associazione Ambientalista Mare Amico di Agrigento. Al microfono di Gloria Scafè. Ritorniamo a parlare dell'erosione della costa di Eraclea-Minoa. Possiamo fare un passo indietro e spiegare perché sta avvenendo questa erosione? Allora, innanzitutto dobbiamo dire che dagli anni 80 ad oggi abbiamo perso ben 100 metri di spiaggia dorata e circa 40 metri di boschetto. Ormai queste le abbiamo persi. Perché è avvenuto? È avvenuto perché le sabbie si spostano con un movimento, con le correnti. Le correnti si comportano come un grande tapirulan che trasporta le sabbie da ovest a est durante l'estate e da est a ovest durante l'inverno. Quindi nell'economia nulla dovrebbe essere cambiato. Se nel frattempo invece qualcosa trattiene queste sabbie in un altro posto, queste non ritornano più. Ed è il caso di Eraclea-Minoa. La sabbia di Eraclea-Minoa in gran parte è trattenuta dal porto di Siculiana. Quindi abbiamo il porto di Siculiana che non è più un porto, è diventato un grande posteggio. E abbiamo perso le spiagge bellissime di Eraclea. Questo perché l'uomo ha fatto del danno. È stato progettato un porto in maniera sbagliata che trattiene le sabbie. Quali sono le possibili soluzioni e se ci sono dei fondi a disposizione per poter correre ai ripari? Le soluzioni ci sono ovviamente, però sono lunghe, non esistono a breve scadenza. Bisogna fare uno studio delle correnti e dopo lo studio delle correnti bisogna capire, già lo sappiamo chi è la causa, cioè il porticciolo di Siculiana. Lì hanno fatto delle opere per impedire che la nuova sabbia venga trattenuta dentro il porto. Poi successivamente deve essere sbangato. Queste sabbie debbano essere riportate in mare attraverso un processo di ripiazzamento di queste spiagge. E poi a livello di Eraclea Mino per trattenere queste spiagge nuove è necessario mettere a largo delle barriere soffolte che tratterranno queste sabbie. Ci sono i soldi. Abbiamo 31 milioni di euro immediatamente disponibili alla regione siciliana, ma mancano i progetti. E poi ci sono pure 77 milioni e mezzo di euro che la comunità europea è disponibile a darci per il ripascimento e il miglioramento delle situazioni gravi come quella di Eraclea Mino. I soldi ci sono, mancano i progetti. C'è un limite entro cui poter usufruire di questi fondi? Allora, entro il 2018 questi 31 milioni di euro. Poi i 77 sono nel piano di attuazione europeo 2014-2020. Il tempo c'è, mancano i progetti e i soldi ci sono.